Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa ventinovesima domenica meditiamo sul testo di Luca 18 1 8. Andiamo tutti a scuola di preghiera, o meglio Gesù ci illumina sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Perché è così necessario? Ecco diamo già la chiave alla luce del Vangelo, si capisce che il motivo è questo, pregare senza stancarsi è necessario per custodire e potremmo dire intensificare la nostra fede, cioè la nostra relazione di fiducia, di amicizia, di obbedienza con Dio. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, com'è possibile pregare sempre? E ancora prima, che significa pregare? Perché uno potrebbe pensare che non sia possibile pregare sempre, perché? Perché durante il giorno ci sono anche altre attività da fare, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono gli amici, ci sono le cose da sbrigare, c'è la spesa da fare. Allora, anzitutto, cosa vuol dire pregare? Ecco, noi non dobbiamo pensare che pregare significhi solo ripetere formule. La preghiera, ci insegnano i santi, è elevare l'anima a Dio in tutte le sue forme. San Giovanni Damasceno diceva che per lui è elevare la mente a Dio, per Santa Teresina è uno slancio del cuore, per Santa Teresa d'Avila è un intimo rapporto di amicizia, in cui ci si intrattiene spessi da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. Dunque, pregare è rivolgersi a Dio. La preghiera è in un certo senso come il respiro dell'anima. È chiaro che poi durante le nostre giornate abbiamo bisogno di ritagliarci dei tempi per pregare, cioè per stare cuore a cuore con Dio, in intimità con Lui. E quindi, ecco, la mattina, ritagliarsi qui dieci minuti, quarto d'ora, meditando il Vangelo del giorno, facendo le preghiere del mattino, diciamo caricando così le bombole dello spirito. E poi la sera concludere le giornate con l'esame di coscienza e affidandoci a Dio per la notte. Poi, durante la giornata, possiamo ritagliarci dei piccoli momenti, come la preghiera prima dei pasti, ma anche se siamo immersi nelle cose da fare, possiamo sempre elevare di tanto in tanto, anche brevemente, con una piccola invocazione, anticamente chiamate le giaculatorie, con le quali tener alimentato il nostro rapporto con Dio. Sant'Agostino faceva un paragone molto bello. Diceva che pregare, in un certo senso, è come voler bene, come amare. Quando tu vuoi bene a qualcuno, trovi sempre il tempo per voler bene. E anche se la persona a cui vuoi bene non è fisicamente presente, se tu la ami, di tanto in tanto la pensi, rivolgi a lei il tuo cuore, così è con Dio. E diceva Sant'Agostino, se desideri sempre, ami sempre, e se desideri sempre, preghi sempre. Che bello! Ecco, allora capiamo che è possibile pregare sempre, ma il punto è che il Signore ci dice è necessario farlo senza stancarsi, dunque bisogna fare attenzione alla stanchezza. Nel Vangelo Gesù ci aiuta a capire in modo particolare cosa Egli intenda, però partiamo da un dato di fatto esperienziale prima ancora, cioè dobbiamo tener conto che a pregare ci si può stancare. Perché? Perché non sempre la preghiera risulta gradita ai nostri sensi, perché tante volte preghi ma non senti nulla, tante volte preghi e combatti con le distrazioni, tante volte preghi e ti vengono in mente 1500 cose da fare più urgenti, tante volte preghi e magari sei un po' distratto, un po' sconnesso e possibilmente non vedi l'ora che finisca. Allora a pregare in un certo senso si deve lottare. Non sempre la preghiera risulta immediatamente facile e gradita. C'è da lottare anzitutto con noi stessi, perché ripeto, ai sensi a volte la preghiera non dice proprio nulla, in un certo senso ci fa sentire anche poveri. Uno mentre prega non sta producendo nulla, magari non sente nulla di particolare e quindi pregare vuol dire veramente stare con Dio e amare e desiderarlo e rivolgersi a Lui, anche se ne sperimentiamo magari il silenzio. Ma c'è anche da combattere contro il nemico, contro il tentatore, che cerca di distrarci in tutti i modi e lì è importante perseverare e inoltre fare attenzione perché a volte le tentazioni ce le andiamo, le distrazioni ce le andiamo anche a pescare noi e ad alimentarle noi stessi. Dunque è necessario pregare sempre facendo attenzione al fatto che ci si può stancare. Ma Gesù perché lo dice? Cosa intende in particolare? Andando avanti lo capiamo. Anzitutto abbiamo la parabola di questa vedova importuna che, avendo un avversario, chiede giustizia in tutti i modi e senza rassegnarsi a un giudice che non ne vuole proprio sentire, non ne vuole sapere nulla di lei, però a causa della sua insistenza la esaudisce. Gesù a partire da questa parabola ci aiuta a capire qual è il problema e dice così, ma se questo giudice che non ha timore né di Dio e non ha neanche amore verso il suo prossimo esaudisce questa donna tanto insistente, ma voi pensate forse che Dio non intervenga per fare giustizia per i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Allora vedete, qual è il problema? Quando è che noi rischiamo di stancarci? Noi rischiamo di stancarci quando ci sembra che le cose non vadano come noi vorremmo, quando ci sembra che Dio non intervenga in nostro favore, quando ci sembra che il male alla fin fine abbia sempre la meglio. Siamo tentati di scoraggiarci e di stancarci nel rivolgerci a Dio perché pensiamo che Dio non ci ascolti, non gli interessi o che comunque non intervenga. No, il Signore ci dice, detto in modo semplice, guardate Dio sa cosa deve fare e sa quando e come intervenire, egli farà giustizia prontamente. Fare giustizia vuol dire intervenire per rendere giusti i suoi figli, cioè per dare loro una qualità di vita più piena, libera dal male, per intervenire al loro favore, per risollevarli dalle loro sofferenze. Dunque Dio sa cosa deve fare, ma il punto è il figlio dell'uomo troverà fede sulla terra. Ecco allora perché pregare sempre senza stancarsi? Non tanto per convincere Dio a fare quello che noi vogliamo, ma per essere pronti noi a far ciò che Dio vuole. Noi preghiamo non per cambiare il cuore di Dio, ma finché Dio possa cambiare il nostro cuore. Noi dobbiamo tener conto che quando preghiamo Dio ci dà sempre di più di ciò che chiediamo, perché Dio non ci dà delle cose, ci dà se stesso e, come diceva Santa Caterina da Siena, dandoci se stesso ci dà tutto. A volte noi pensiamo che la cosa importante sia che Dio risolva le cose proprio come gliele chiediamo noi, che ci tolga tutti i problemi possibili e immaginabili e spiani la strada in modo che tutto sia liscio come l'olio. Per carità il Signore non vuole che noi, vi posso dire, soffriamo nel senso negativo del termine, cioè non vuole il nostro male, ma da buon padre sa che a volte è necessario che noi passiamo attraverso certe vie, certe strettoie, perché possiamo crescere, perché possiamo maturare, perché possiamo raggiungere quella pienezza umana e spirituale che lui ha sognato. Allora ciò che conta non è convincere Dio a far ciò che vogliamo noi, ma è essere noi sempre pronti ad essere uniti a Dio e a far ciò che lui vuole. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a riscoprire la forza, la potenza e la bellezza della preghiera come luogo di incontro con Dio, come luogo di ascolto della volontà di Dio, come luogo di unione con Dio e uniti a Lui anche noi saremo e siamo vittoriosi. Pace e bene e buon cammino a tutti!